Bentornati amici di Grand of Gamers, siamo su DC Universe Online, invitati da un nostro caro amico che risponde al nome di? 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 L'ho già sentita sta cosa, sì ragazzi, sì perché nel frattempo a me Fraps me si era cresciato e non mi era accorto che non registravamo più il cazzo e quindi ho dovuto rifare tutto il video, che era pure divertente perché siamo entrati neanche non si trovavamo insomma alla fine di questo gioco, sì è divertente che non sapevamo cosa fare su questo gioco, sì praticamente, abbiamo deciso di buttarci, cioè si è buttato prima lui e poi a me ci ha tirato dentro a me su questo gioco qua, è un MMORPG a carattere eroico, con tutti i personaggi della DC, dell'universo DC Comics, qui abbiamo il nostro personaggio che è fighissimo che è, eccolo qua, con la tuta un po' inferminata, che sta una voletta pure prima, vabbè, io sto cercando di arrivare all'appuntamento con Freebox, che dovrebbe essere, magari è una palletta già alla coppia, no, no, io continuo a camminare, io lo vedo verde, verde. Spolazzo, sto passando per Arkham, ma che è Arkham, quella no? Ah no, devo girare qua, ecco, andiamo qua, spolazzo un pochettino, ma ve la faccio breve, vi lascio al commento di questo gioco, che era, dove so? Mi sa che te sto sopra, può essere? Stai sopra? Non so, aspetta. Andiamo giù, sto sopra? Ah, aspetta, io me l'ho spostato, c'è un marito, non vedo il mondo stile. Eh? Molto Matrix. No, dove cazzo sto? Qui c'è fra un cazzuto, oh cazzo, questo è grosso? No, forse è là, ma dove l'ha fatto sto rifugio? Ma gente, materiali, pericolosi, no, fossi te, no. C'è un coso viola qua, Darkin Whistle, Los Espectros. Super Aria. Qualche evoluzione in volo non si può fare, lo rotola, non fa sabono, un cazzo, caschi. All'acqua ne è manco fatta male. Carino sto gioco, comunque, c'è un'alternativa, MMORPG, saluti di giochi fantasy, eccetera, per verità che noi ci piacciono, vero? Vibox? Sì, sì. Ecco. Ehi, oh, io l'ho fatto. Sì, sì. Raccontaci un po', come ti è venuta l'idea di giocare a questo gioco, Vibox? Mi è venuta l'idea di giocare a questo gioco perché, boh, non lo so, sono andato su un sito dove consigliava tutti i giochi di questo tipo, ce n'erano 3-4, anzi no, ce n'erano una decina, e ho scelto questo perché era diverso. E ti piace? C'era anche il solito Neverwinter. Il nostro amatissimo Neverwinter. Il nostro amatissimo Neverwinter. Che tu proprio hai snobbato la... No, sono arrivato. Che io sono arrivato a livello 60, non ho preso un altro. Sì, sono arrivato a livello 3, ovviamente. Minchia. Stavamo pure... Avevo fatto la gilda. Voi se saranno morti dei pizzichi quelli voracci. Ma prima o poi ci devono rientrare. Ebbene, qualche altro gameplay di Neverwinter. Tutti gli utenti YouTube che stanno guardando questo video, tutti lo vorranno, no? Sono io. Eccomi, sono arrivato. No, ma perché mi è sparita? Non mi è sparita. No, non è la doncina a forma di casetta, ancora non c'è, aspetta. Lo sto ancora un pezzetto, perché vuole. Ma stai a seguire la freccia. Seguire la voglia. Eccoci arrivati e Kribox sta qua. Che fai? Ecco. Faccio vedere Kribox, aspetta. Oh, ecco. Tracchi. Yeha. Ciao. Yeha. Santa, Santa che facciamo un figlio. Yeha. 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 Dove stai? Ho detto Santa, no? Paule. Che è qua? Ehi. Guarda i piedi, perché? Sta analizzando qualcosa. Mi sono andati a saccociare un po' dei sacchi dei sordi. Con questi anelli uniamo i nostri spiriti. È un po' molto gay sta cosa, però. Sì. Vedi che figlio, fatte vedere? Cazzuto. Vedi, io sono molto effeminato. Abbastanza, sì. Di ole verde, eh? Fantastico. Che famo una volta che ci siamo arrivati? Eh, non lo so. Se facciamo una missione tua, se va a condividere? Eh, voglia. Penso. Non credo. Non credo. Siete livello che? Perché livello sei? 10, 14, 15. Saluto. Io sono livello 5. Appena è entrato. Aspetta, vediamo un po'. Che missione c'è? Complete? No, incomplete, sì. Ce n'ho una completa. Evasione di Brainiac. Condividi. Non me la fa fare. Perché? Aspetta. Aspetta. Parla con l'agente Galient. Messaggio antroduttivo. L'ho fatto. Seguire. Qui oracolo. Le forze di Brainiac stanno attaccando la città. Parla con l'agente Galient alla stazione di polizia per avere altri dettagli. Ci sono stata alla stazione di polizia? Ah, no, perché? Forse prima sono uscito. Vabbè. Ti va da andare alla stazione di polizia? Andiamo. Andiamo alla stazione di polizia. Seguimi. Sì. Via! Più veloce della Lenel. Vabbè. Vabbè. Che dove è? Andiamo a parlare con l'agente Galient. Siamo alla stazione di polizia. Agente Galient? Agente Galient? Si stanno spingendo verso la città. Dirigiti là e aiuta a tenere duro. Ok. Andiamo a aiutare a tenere duro. Ehm. P-box. Non posso. Ecco. Pazzo. Sei una colonna. Andiamo. Spolazziamo dentro la... No. Dentro la stazione di polizia. Ah. Una cosa importante da dire. Questo gioco. Come l'ha detto. Ma stai registrato adesso? Sì. Ovvio. Lo senti? Perché io faccio pausa. Quando faccio pausa non stiamo... Io mi ricordo che avevi fatto pausa. Non mi ricordavo che avevi fatto... Eh no. Poi ho ripreso. Ho ripreso. Che ne sei? E questi sono inconvenienti tecnici, vero? Misunderstanding online. Allora. No. Che cazzo stava di? Una cosa importante che ti ho detto io. Ah. Sì. Che sto gioco. Si può giocare con Joypad. Ed è. L'ho provato. Adesso ho smesso e l'ho giocato tutto da PC. Lo sto giocando tutto col mouse. Ehm. Però devo dire che non è male. Allora. Dovevo sentire. Adesso andare a Gotham. Ma non c'è sta mai Gotham. Sì. Ah. Dovevo ammazzare questi chi sono? Ah. Tu stai. Tu stai. Vedi qua. Vedi che devo andare a prima lave. Attiva la missione. Da crimini speciali. Questi robot sono veramente malvagi. Coprimi. Mentre spacco un po' di hard drive. Stiamo ammazzando gente a cazzo. Ma bravo. Così al buf. Siamo dei gnocchi. Siamo dei gnocchi. Siamo dei gnocchi. Siamo dei gnocchi. Non vediamo che come faccio un gnocchi spigliote. Tutto gioco. Sì. Sono gente a cazzo per l'articario. Per l'articario. Faccio un po' di tre. Questo che fa. Che colture era che lo dico? È mio? È. È un treno. È un treno. Che c'è la potere dell'alternaria. È un treno. È un treno. È un treno. anderenaria. gli obiettivi di Breniak nella zona di carico UCS della polizia di Gotham, cioè qui, no, qui, ok, è il primo, l'abbiamo messo, andiamo pure al secondo, per il tempo questi mi stanno facendo un ricco segone, cittadini, ah, me ne ha attacchiato, non lo devi fare mai più, no, mi hanno messo dentro, dentro un coso de, come se cazzo faccio, più avanti dei miei, oh, fammo voilà, portarci due, fanno una spigna, praticamente, macchina infernale, che stai a guardare su internet? come fai a condividermi la missione? forse hai fatto del livello, aspetta, ok, ok, allora, tu intanto va a fa culo, sei morto, intrappolato il cazzo, shift, io sono forte, e io quindi, io ho capito, non so, quindi tu dove staresti? eh, come te lo dico? come te lo dico? aspetta, che coglioni sto coso, sto dietro dove stavamo prima, mi dovresti vedere dalla mappa, forse, tu dici che ti vede la mappa, tu vedo io, punto tiratura, ma te te lo dico il cazzo, e quanto caglio il cazzo, eh, oh, non mi attaccate che sto con la palla, non giocare a palla prigioniera qua, infatti ne mancano cinque, ho quasi fatto eh, tiè 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 tiè, brutto stronzo, ma non sto al gruppo con te, perchè no? boh, il gruppo non mi dice niente, non ci stiamo più nel gruppo, benissimo, F4, invita al gruppo, ok, ah, ecco, c'è la precetta, la vengo persetta, c'è stata? niente, qua sotto, e vaffanculo, oh, si controlli, ma dove? ah, devo distruggere gli accumulatori, dove sta? da me uno, stang, guardiano di difesa, per infliggere i danni, stordire e battere i tuoi amici, aura rossa dell'anima, e qual è? interazioni conferisce, aura rossa dell'anima, lo star guardiano, comuovi il guardiano, core 3, avvocamento, vai guardiano vai, è il companion, un award worker, vedi qua, sembra che stanno in gruppo, può condividere la missione, ok, no, questa è completa, non me la fa condividere, va bene, facciamo un altro, elimina le forze di Brennick 1.15, ok, vediamo un po', Jay, non me la fa condividere, andiamo per l'altra, cioè vai qui, che coglioni, metta la finici, giustamente questi difendono, aspetta, devo aiutare, così abbuffo, non possiamo neanche condividere la missione, non ce ne viene nulla, praticamente, faccio esperienza, ma fai comunque l'esperienza? eh sì, ammazzo la gente per cazzi mia, va bene, dove stanno le altre? qua, le abbiamo fatte fuori due, ok, andiamo da qua, ok, dispositivo del riassemblamento, del servitore, boh, aspetta che, aspetta che ti faccio una cosa, no, più in là, trovi i progetti per costruire le cose, capito? più in là? trovi i progetti per costruire le cose, penso che questo sia uno dei pezzi che usi per costruire le cose, ho capito, no, stai qui, eh, ti cerchiamo, dov'è? dov'è? muori? muori, mi fai vedere il treno, fa un po' il treno, figo il treno, io no, c'è il treno, fa questo, andossa questo, sbagliato non era questo, ecco il treno, wow, si, è figata, è tipico proprio gioco da nerd, si, con i super eroi e tutti, vabbè, che dire, se mollo, penso che urate da nanna, penso proprio così, se domani si lavora, sotto al cazzo c'ho due, no, eh, era per dire così, non lo so, si fa sott'acqua? non lo so, no, si fa sopra l'acqua, spolazzo, come spolazzo, attaccata per cazzo, come, dove stai? sto in cielo, comunque sono l'ipocina blu sulla macchina, ok, ok, ecco qua, dove sei? ecco qui, ambiti pure la stessa artista, aspetta che ci salutiamo qua, track da track, fermi, oh, ciao Creebox, andiamo tutti e due, a cannone di sotto, alla stile Matrix, pronto? 3, 2, 1, via, e chiudiamo il video così, buonanotte, buonanotte, ciao a tutti da clarofgames.it al mondo tutto quello che ha un inizio, ha anche una fine,